Benvenuto a le maggiori esportazioni di Cirene. La fonte principale di benessere economico per Cirene era la coltivazione e l'esportazione di papaveri e silfio. Benché venisse esportato anche l'olio di oppio ricavato dai papaveri, poco si sa della loro coltivazione. Le informazioni sulla coltivazione del silfio sono invece più accessibili. Con il suo fiore giallo, il silfio era considerato un dono del dio sole. Coltivato solo in questa regione vicina al Mediterraneo, l'estratto di silfio veniva venduto a prezzi molto alti, rappresentando un elemento cruciale per la ricchezza della Cirenaica, tanto da essere raffigurato sulle monete. La radice di silfio produceva una resina usata sia dai greci che dai romani come medicamento per la tosse, la febbre, l'indigestione e altri malanni. era anche utilizzata come contraccettivo. In una raccolta di ricette di cucina del IV secolo a.C., l'erba è menzionata in varie ricette, inclusa una pietanza a base di fenicottero. L'eccessiva richiesta, lo sfruttamento e forse anche un mutamento del clima contribuirono all'estinzione del silfio. L'ultima menzione risale al IV secolo d.C. e a oggi non sono state rinvenute tracce identificabili di questa pianta.